Un saluto da Alex Guarini di trabimeteo.com Domenica all'insena del maltempo su buona parte d'Italia a causa del transito di una perturbazione di origine atlantica con piogge sparse in pianura e nevicate in montagna Tempo che però tenderà poi a migliorare tra pomeriggia e sera a iniziare dal nord ovest e sulla Sardegna ma lo vedremo tra poco Partiamo ora dalle temperature minime che non subiranno variazioni significative un po' su tutto lo stivale con valori superiori alle medie del periodo soprattutto al centro-sud Per quanto riguarda le temperature massime queste staranno in calo sulle regioni centro-meridionali per via della maggior copertura novolosa e delle precipitazioni mentre un livello rialzo si potrà avere al nord ovest Ma entriamo quindi nel dettaglio previsionale riferito alle regioni settentrionali che vedranno diffuse precipitazioni sul comparto centro-orientale del nord con nevicate anche abbondanti sulle Alpi centro-orientali a partire dai 1300 metri Prime schiarite tra pomeriggia e sera si apriranno invece a partire dai settori di Ponente Spostiamoci al centro dove il maltempo imperverserà per buona parte della giornata un po' su tutte le regioni con tendenza poi a graduale miglioramento in serata a partire dalla Toscana nevicate lungo la dorsiera peninica sono attese a partire dai 1300-1400 metri E infine al sud peggiora fin dal mattino iniziare dalla Campania con piogge rovesci in marcia poi verso i settori adriatici e ionici variabilità sulla Sardegna con qualche rovescio a carattere sparso ma in via di esaurimento entro la serata Aggiornamento in tempo reale come di consueto su trebimeteo.com Aggiornamento in tempo reale come di consueto